Musica Guardate qui che bel pane rustico assomiglia un pochino al pane di Matera e grano duro ha una bella crosticina croccante sentite? Ma che cosa ci andiamo a mettere dentro? ve lo dico io adesso funghi pioppini abbiamo una verdura mista quindi piena di gusto con varie erbe poi abbiamo una bella caciotta di pecora e poi loro i salamini italiani alla cacciatora DOP passiamo subito da che cosa? le verdure mettiamo a cuocere le verdure vedete qui c'è un bel mix c'è di tutto la borragine poi abbiamo la cicoria abbiamo della bieta rossa abbiamo della verza c'è un po' di tutto un bel mix bello ricco di sapore mettiamo qui acqua in ebollizione salata vai così funghi quei pioppini questo l'ho dimenticato vai così sale di quello in fiocchi così ci metterei anche un pochino un pezzettino a me piace tanto di peperoncino così taglia a metà ok così e poi togliamo le verdure eccoci qua queste qua pure belle colorate guardate che belle bellissime in questa maniera bello così faccio fondere un po' il formaggio bello abbondante anzi questo qua è troppo 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 ecco qui coperchio e metto qui adesso verdurine guardate che meraviglia guardate il colore stupendo ho solo un timore che questa è troppo grande la costa e la devo togliere la devo snervare un pochino questa qua via ecco qua sale anche qui belle belle croccanti le voglio queste verdurine il cacciatore chiamato anche così ma il suo vero nome è salamini italiani alla cacciadora DOP allora taglio delle fettine giuste così non troppo sottili perché se non andrebbe tagliato a macchina invece questo è bello sentirlo tra i denti questo profumino dolce buono diamo la pelle e poi ritorno a ripetere la grandezza è quella giusta insomma no? da consumare in una sola volta ecco qui ops a posto e quest'altra l'ultima vai ok e questo mangio io adesso il pane guardate che meraviglia verdurine spettacolo ragazzi due funghetti giusto così eccoli qua perfetto mi avvicino già qua così e il nostro pensate adesso a quel leggero calore che riscalda leggermente questo salamino e che profumo adesso ecco qui e il nostro cacciatore è pronto adesso vi faccio il mio le verdure la verdura eccola qui un pezzo di formaggio eccolo qui il salamino già lo metto qua perfetto un funghetto tralala eccolo qui e adesso assaggio oddio ma che ascolti i funghi oddio buonissimo una bontà proprio buono 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 non bisogna per forza andare a caccia potete farlo anche se andate a fare una passeggiata rifatelo è veramente buono buonissimo buono